Io mi sono sempre unito anche con persone più grandi, abbiamo creato praticamente un consorzio che è il Centro Commerciale Naturale, che riunisce diverse realtà imprenditoriali della Borgata, cercando di, sì, praticamente cercando di, in più persone, magari anche mettendo mano a portavogli, di riuscire a fare qualcosa. Abbiamo avuto la possibilità di andare a Milano, siamo andati alla Borsa Internazionale del Turismo e abbiamo avuto una grandissima risposta. Abbiamo presentato un plastico, abbiamo spiegato tutte le attrazioni naturalistiche che abbiamo. Il problema si è rivelato quando i tour operator ci chiedevano, allora la settimana, anzi ci diciamo, la settimana prossima vi mandiamo 500 persone. Ci guardavamo in faccia e possiamo mettere a casa nostra perché non abbiamo tutta questa ricettività.